Tunisia, terra di grande fascinazione, la cui storia si lega a doppio filo a quella di Trapani. Secoli di battaglie, scambi culturali e commerciali ci avvicinano e da oggi anche il comune interesse per la musica, la grande musica. C'è un po' di italiani, spero che c'è un po' di cooperazione, in modo che c'è un po' di maggiore, in modo che c'è un po' di numeri, c'è un po' di numeri, c'è un po' di numeri. Grazie a tutti. 140 tra manovali, musicisti e artisti a vario titolo provenienti dall'Occidente del mondo. Già da alcuni giorni qui in Tunisia collaborano con manovali, musicisti e artisti a vario titolo provenienti dal Maghreb, tutti insieme lì per dar vita ad una delle più importanti produzioni mai nate da una istituzione del nostro territorio. Il luglio musicale trapanese, in collaborazione con le più prestigiosi autorità culturali di Tunisia, con in testa il Ministero della Cultura tunisino e l'Ambasciata italiana di Tunisi, porterà in scena nei teatri romani di Elgem e di Cartagine Aida, una delle opere liriche più famose d'ogni tempo. Il nostro viaggio comincia con la città della cultura di Tunisi, una magnifica costruzione nata per produrre e promuovere al meglio ogni forma d'arte. Una struttura emozionante, capace di sorprenderti dietro ogni angolo, ogni porta. Alla fine di un corridoio, dietro la porta che non ti aspetti, si apre alla vista un auditorium bello ed efficiente, modulare per capienza e perfettamente attrezzato per far musica. Qui tra poco, 75 orchestrali, 45 occidentali e 30 nordafricani per la prima volta suoneranno insieme. Lingue diverse, culture diverse, ma con la musica lo scambio e l'integrazione diventano naturali. Ci coglie un'emozione. Il nostro viaggio nella produzione dell'Aida a Tunisi continua domani. Non mancate, stessa ora, sempre qui. Perchè, stessa ora, sempre qui. Perchè, stessa ora, sempre qui. Pag.